ciao a tutti da francesco gabi fly benvenuti nella mia pagina oggi sono a pian di meleto in provincia di peser urbino vi mostrerò questo castello e se vi dovesse piacere magari lasciate un like per le persone che non sono iscritte e si volessero iscrivere alla mia pagina mi farebbe tanto piacere tanto è gratuito sia la mia pagina che la mia pagina web vi saluto buona visione ciao 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 ciao